Controlliamo un po' le belva Ok Ah Mi ha scritto la FIGICI Ciampiero Ventura Grazie signor caro Lei è convocato Il nazionale per svolgere le partite in programma Distinti saluti il CT Allora rispondiamo subito Caro CT Commissario tecnico No, non la caccia Carissimo Giampiero Ventura Accetto con molta emozione questa sua chiamata Per i mondiali del 2010 Distinti saluti Riccardo Montolivo Allora Ah no aspetta un'altra mail Preparo subito l'occorrente E arrivo Velocemente Allora sono pronto Ok Le spade c'è l'ho E l'acqua che c'ho tutto C'ho tutto Ho dimenticato qualcosa Cavolo I cerotti C'è un po' l'ata morbida 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 Grazie a tutti.